MESCH & CO! Siamo a Copenaghen per la finale della Creative Business Cup e siamo qui con i vincitori italiani Katrin, Valerio, MESCH & CO! Hanno già fatto il loro pitch, quindi diciamo che è andata come lo scopriremo domani è un'impressione a caldo della giornata Sicuramente la cosa più interessante è stata il confronto con gli altri rappresentanti dell'alternazione e sicuramente questo, prima di tutto, ci dà un sacco d'orgoglio essere qui a rappresentare l'Italia e come seconda cosa abbiamo ricevuto tantissimi feedback anche dagli investitori e da chi ha ascoltato il nostro pitch e questo ci permetterà sicuramente di migliorare, di crescere in previsione di diventare una realtà ancora più strutturale di quella che siamo già adesso domani mattina ci sarà la conferma delle semifinaliste e poi ci sarà la finale noi speriamo che i ragazzi siano nel numero di quelli che torneranno a fare il pitch sul palco principale facciamo vedere Comunque vada, è già un successo essere qui siamo stati selezionati dal Matera Hub e da tutti gli altri che hanno creduto e supportato diciamo è supportato questo progetto bene e da Coppelagher è tutto l'idea allo studio siamo stati attraverso dove diventare la